Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Le relazioni moderne spesso si sviluppano in contesti sempre più complessi, dove l'identità digitale gioca un ruolo centrale e l'equilibrio tra vita pubblica e privata può essere molto fragile. Per il caso di oggi vi porterò nel mondo delle camgirl, dove questi confini si sfumano in modi che possono complicare profondamente i rapporti. Nel contesto di queste dinamiche, dove amore, denaro e pressione sociale si mescolano, le tensioni possono crescere fino a sfociare in situazioni estreme e, talvolta, le conseguenze possono essere tanto tragiche quanto imprevedibili. Melissa Turner nasce il 25 novembre 1992 e cresce nella Carolina del Nord. Fin da bambina la sua vita è segnata da difficoltà. Subisce abusi da una persona di cui si fida, ma i dettagli non sono noti. Non si conoscono né l'identità dell'aggressore né la natura precisa degli abusi, ma quel che è certo è che queste esperienze lasciano dei segni profondi su di lei. Gli abusi influiscono negativamente sulla sua salute mentale, contribuendo allo sviluppo di un disturbo alimentare, il binge eating. Melissa mangia in modo compulsivo, abbuffandosi fino a star male. Durante l'adolescenza questa sofferenza interiore si aggrava, quando diventa vittima di bullismo bersagliata per il suo aspetto fisico, in particolare per il suo peso. Le sue insicurezze crescono e non solo quelle legate al suo peso, mette in dubbio il suo intero aspetto. Questo ha un enorme impatto sulle sue relazioni, trascorre sempre meno tempo con gli amici e la famiglia. Melissa inizia così a evitare le interazioni sociali, rimane in camera sua e non vuole più avere a che fare né con i suoi amici né con la sua famiglia. La solitudine diventa la sua unica compagna e il suo desiderio di isolamento aumenta sempre più perché non si sente a suo agio quando ci sono altre persone attorno a lei. Quando finisce in liceo, all'età di 18 anni, Melissa si trova a un punto di svolta. Sta lottando duramente contro la depressione ed è stanca di vivere in uno stato di perenne sofferenza. Decide quindi di apportare alcuni cambiamenti significativi nella sua vita. Si iscrive al Pennsylvania College per studiare make-up per effetti speciali, sperando in un nuovo inizio. Durante questo periodo si avvicina al mondo del fitness, della salute e dell'alimentazione. Inizia a prendersi cura di sé in modo consapevole, si allena regolarmente, scopre il piacere del mangiare sano, si unisce a diverse confraternite e amplia le sue conoscenze online. Dopo un paio di anni al college, Melissa si trasforma completamente, perde molto peso e soprattutto ritrova un equilibrio interiore. Per la prima volta nella sua vita, Melissa si sente davvero felice, serena e in salute. La sua trasformazione la spinge a scrivere un blog dove documenta la sua perdita di peso e condivide il percorso che l'ha portata a cambiare vita. Pubblica consigli nutrizionali e sul fitness racconta come ha fatto a perdere così tanto peso e spiega come iniziare ad abbracciare uno stile di vita sano. Grazie alla qualità dei suoi contenuti, il blog guadagna rapidamente moltissimi follower. Più o meno nello stesso periodo, a 21 anni, Melissa inizia la sua prima relazione seria con un ragazzo di nome Cameron. Anche lui ha 21 anni e sta studiando make-up per effetti speciali nello stesso college che sta frequentando Melissa. Dopo la laurea, i due decidono di trasferirsi insieme in Florida per avviare la loro carriera nel settore. Melissa però decide di mettere in pratica le sue competenze in un altro ambito. Diventa una cosplayer. Inizia quindi a dedicarsi a questa pratica che consiste nel creare e indossare costumi e make-up per interpretare al meglio personaggi di anime, videogiochi e altro. Apre un nuovo blog dedicato al cosplay dove condivide foto di se stessa travestita da personaggi come Daphne di Scooby-Doo, Misty dei Pokemon e molti altri. Tuttavia Melissa tiene nascosto questo nuovo progetto a Cameron. Col tempo il suo seguito inizia a crescere sempre di più grazie alla sua abilità e creatività e i suoi follower iniziano a chiederle contenuti sempre più espliciti, offrendole soldi per farle indossare degli outfit più succinti o per farle togliere i vestiti che indossa. La ragazza vede in queste richieste un'opportunità di business molto redditizia e vuole coglierla, ma si sente in dovere di essere onesta con il suo ragazzo Cameron. Quello che inizialmente era nato come un hobby è diventato un vero e proprio lavoro che le fa guadagnare molti soldi. Quando finalmente rivela tutto al suo fidanzato, lui non solo accetta la sua scelta, ma la supporta pienamente. Cameron prende gradualmente il controllo della situazione, spingendo Melissa a creare contenuti sempre più audaci e a soddisfare le richieste dei suoi seguaci. Di conseguenza il suo profilo cresce esponenzialmente, viene invitata a numerosi eventi cosplay, intraprende una tournée per incontrare i suoi fan e guadagna sempre più denaro. Tutto sembra andare a gonfie vele per Melissa, ma nonostante il successo desidera incrementare ulteriormente i suoi guadagni. Ha un debito studentesco di 26 mila dollari da saldare, oltre a dover far fronte a spese come affitto, bollette e spesa settimanale. Inoltre vorrebbe risparmiare per potersi sottoporre a un intervento chirurgico per rimuovere la pelle in eccesso rimasta dopo la sua drastica perdita di peso. Decide quindi di lanciare una raccolta fondi su GoFundMe, per coprire i costi dell'operazione che è tuttora attiva. Nella pagina della sua raccolta fondi racconta dettagliatamente il suo percorso, spiegando come abbia preso peso durante l'infanzia e le difficoltà che ha affrontato lungo il suo cammino. Una sera, non molto tempo dopo la creazione della pagina su GoFundMe, Melissa partecipa a un party per cosplayer dove incontra una donna che la introduce nel mondo delle cam girl. Questa donna, anche lei appassionata di cosplay, rivela a Melissa di guadagnare molto di più lavorando come cam girl che con il cosplay. Le cam girl, definite anche modelle in webcam, sono ragazze che trasmettano in streaming video di se stesse mentre interagiscono con gli utenti presenti in chat. Parlano con i loro clienti, spesso in conversazioni private e nella maggior parte dei casi gli spettatori sono clienti paganti. A volte le cam girl si spogliano davanti alla telecamera o si esibiscono in atti intimi, altre volte si limitano a conversare con i propri utenti. Non esiste una definizione precisa di cosa dovrebbe fare una cam girl, tutto dipende dalle richieste che riceve. Per Melissa questa sembra la situazione a tutti i suoi problemi finanziari. In questo modo avrebbe potuto guadagnare molti più soldi rispetto al cosplay. Decide quindi di pubblicizzare i suoi servizi su un sito web per cam girl, scegliendo come nickname Thond Roses. Sin dall'inizio i suoi guadagni aumentano drasticamente, Melissa inizia a guadagnare migliaia di dollari al mese, trasformando la sua attività online in un vero e proprio business. Dedica ore e ore a promuovere se stessa online, indirizzando sempre più persone verso il suo sito di cam girl. Apre un account su Instagram, Twitter e TikTok e anche un canale YouTube per promuovere il suo lavoro. Tuttavia il suo canale YouTube non decolla a causa delle rigide linee guida della piattaforma. Melissa decide quindi di aprire anche un account su Twitch, sognando di diventare un influencer di successo. Con la crescita dell'attività i suoi contenuti diventano sempre più espliciti, perché oltre al lavoro come cam girl, Melissa entra ufficialmente nell'industria dell'intrattenimento per adulti, iniziando a creare video hot, molto hot, che pubblica su vari siti specializzati. Cameron continua a supportarla e in seguito inizia a partecipare anche lui ai contenuti di Melissa. Insieme registrano video dei loro rapporti intimi e li caricano su siti per adulti. Cameron si fa chiamare Sen e la coppia inizia a produrre una varietà di contenuti diversi. Con il successo degli affari e la crescente popolarità di entrambi, in particolare di Melissa, la coppia decide di fondare il proprio sito web indipendente di intrattenimento per adulti, chiamato foundrose.com. Sul sito pubblicano contenuti espliciti legati al cosplay horror, creando un mix unico di erotismo in un contesto gotico e horror. In quasi tutti i video è presente una grande quantità di sangue finto. Con il crescere dei guadagni, Melissa diventa sempre più ossessionata dalla sua immagine pubblica e dal desiderio di fare quanti più soldi possibili. Niente sembra mai abbastanza per Melissa, vuole continuamente accrescere la sua popolarità. Così lei e Cameron si trasferiscono in una casa più grande, in modo da poter costruire un grande studio casalingo in cui filmare i contenuti. Ma non solo. Iniziano a costruire una specie di impero dell'intrattenimento per adulti. Creano diverse location per le riprese all'interno della propria casa e iniziano ad assumere altre camgirl per farle lavorare sotto la loro tutela. Ora, oltre a guadagnare dei propri contenuti, Melissa e Cameron generano profitti anche dall'attività delle camgirl che lavorano per loro. Promuovono questa attività online con il nome di Super Cams, offrendo diversi abbonamenti con vantaggi esclusivi a seconda del tipo di iscrizione scelta dagli utenti. Melissa crea un secondo canale YouTube per pubblicizzare questa attività. Attivo ancora oggi. Sono presenti solo due video dove promuove Super Cams e i diversi pacchetti offerti. Melissa parla anche della vendita della propria biancheria intima usata, solo indossata, oppure con cui ha fatto qualche show piuttosto particolare ed esplicito. Spiega inoltre che lei e il suo fidanzato Cameron offrono anche contenuti personalizzati per i loro clienti in base ai diversi abbonamenti. L'attività va a gonfia vele. I guadagni sono così alti che la coppia potrebbe tranquillamente vivere di rendita. Tuttavia arriva il giorno in cui Cameron decide di lasciare Melissa. Lei è diventata troppo controllante e ossessionata dal lavoro e dal guadagnare sempre di più. Ormai quella è la sua unica priorità nella vita ed è diventata esigente al punto da spingere Cameron ad allontanarsi. Melissa inoltre è sempre nervosa e perde facilmente le staffe per ogni minimo inconveniente, sfogandosi costantemente su Cameron. Il successo la cambia profondamente, ma non in meglio. Dopo questa rottura Melissa è devastata e si rivolge ai social media per condividere il dolore della fine della sua relazione. Spiega che con il tempo si è ritrovata a dover gestire tutto da sola, trovare nuove camgirl, allestire i set per le riprese, persino occuparsi del montaggio dei video. Afferma di essere profondamente arrabbiata. Ma sapete cosa penso? Che Melissa si è arrabbiata per questa rottura perché sa che il valore aggiunto dei suoi show era proprio la presenza di Cameron. Prima di lavorare con lui non aveva raggiunto così tanti follower, né guadagnava così tanto. Melissa è consapevole che questo cambiamento porterà inevitabilmente a una diminuzione dei suoi guadagni. Con la partenza di Cameron, l'impero commerciale e chi avevano costruito insieme si sgretola. Io ho l'impressione che fosse Cameron la mente dietro l'attività. Era lui a organizzare tutto. Ora che lui non c'è più, Melissa si ritrova ad essere una camgirl come tante altre, senza più collaboratrici che lavorano per lei. Subito dopo la rottura, avendo accumulato abbastanza denaro, Melissa decide di sottoporsi all'intervento chirurgico per rimuovere la pelle in eccesso. Dopo essersi ripresa dall'operazione, incontra un uomo di nome Matthew Trussler. Matthew è nato l'11 gennaio 1994 ed è cresciuto a Hopkin, in Massachusetts. È un ragazzo solare, amante del divertimento e un gran lavoratore, sempre in grado di mettere di buon umore chiunque sia in difficoltà. Molto legato alla famiglia e agli amici, dopo la laurea trova lavoro come direttore generale in un ristorante italiano. È in questo periodo che Matthew inizia a lottare con la b***a di sostanze, in particolar modo con l'alcol. Nel 2015, all'età di 21 anni, decide di voler dare una svolta alla sua vita e si trasferisce dal Massachusetts in Florida, dove vive suo fratello Sean. Matthew e Sean sono incredibilmente uniti, non solo in quanto fratelli, ma anche come migliori amici. Grazie al sostegno di Sean, Matthew riesce a riprendere in mano la sua vita, trova un impiego nel settore edile e inizia a lavorare insieme al fratello. Finalmente, la vita di Matthew sembra prendere una piega positiva. Nell'aprile del 2017, Matthew incontra Melissa su Tinder. Lei ha 24 anni, mentre lui ne ha 23. Il loro primo appuntamento va a gonfie vele, tanto che decidono di rivedersi. Inizia così una frequentazione in cui Matthew si dimostra davvero molto dolce e attento, facendola sentire apprezzata e amata. Melissa, fiduciosa del loro legame, gli rivela presto che gestisce un'attività di successo, creando contenuti per adulti. Matthew non si dimostra affatto turbato dalla scoperta, anzi, la sostiene pienamente e in poco tempo prende il posto di Cameron. L'uomo inizia ad apparire nei contenuti per adulti insieme a Melissa e lei ne è entusiasta. È felice di essere riuscita a creare una collaborazione proficua con Matthew e sa che questo le permetterà di tornare a guadagnare cifre significative. La loro relazione sembra solida e affiatata. Dopo 18 mesi insieme, nel gennaio 2019, la coppia si fidanza ufficialmente e acquista una casa piuttosto grande, con quattro camere da letto. Nel frattempo adottano un cagnolino e quattro gatti e su Facebook Matthew pubblica questo stato. Un quarto di secolo dopo ho un mutuo, un cagnolino, quattro pelosetti e una ragazza meravigliosa. Sono un uomo felice. Tuttavia, dietro a questa facciata idilliaca, le cose non sono così perfette. Poco dopo essersi trasferiti nella nuova casa, Matthew decide di licenziarsi. Da quel momento la coppia vive esclusivamente col reddito di Melissa, mentre Matthew ora si occupa della casa a tempo pieno, sbriga le varie faccende domestiche, prepara i pasti e si prende cura degli animali. Inoltre recita anche in alcuni contenuti di Melissa. Non molto tempo dopo, però, la situazione tra loro diventa molto tesa. I vicini li sentono litigare spesso e Melissa e Matthew si urlano contro e si lanciano addosso degli oggetti. Secondo Melissa, Matthew inizia a bere sempre di più. Trova bottiglie vuote di birra ovunque, lo vede prepararsi una fila di shot che beve uno dietro l'altro. Spesso la mattina, appena alzato, vomita a causa dell'eccesso di alcol della sera prima. In altre occasioni, mentre è ubriaco, ha delle allucinazioni e sostiene di vedere un demone che, secondo lui, gli avrebbe bruciato la pelle con accendini e sigarette. Vi sottolineo però che questa è la versione dei fatti di Melissa, non quella di Matthew. La famiglia dell'uomo affermerà più volte che Melissa è manipolatrice e bugiarda. Questa donna sembra fare tutto ciò che è in suo potere per creare una frattura tra Matthew e la sua famiglia e col tempo, purtroppo, ci riesce. Matthew inizia a isolarsi sempre di più, fino a non parlare più nemmeno con suo fratello. Un comportamento molto preoccupante per la sua famiglia, soprattutto dato che lui e Sean erano sempre stati inseparabili. La famiglia di Matthew al momento non sa nulla della carriera di Melissa, di conseguenza ignorano anche che Matthew sia coinvolto nei suoi contenuti per adulti. Quando lo scopriranno, affermeranno che, secondo loro, Matthew era stato costretto a recitare in quei contenuti e che, anche se Matthew avesse consentito a comparire nei video, guardandoli, si capiva chiaramente che non era del tutto a suo agio. Era deluso, si sentiva sotto pressione perché si doveva esibire in quel contesto e aveva capito che non gli piaceva affatto esporsi in quel modo. Sapere che chiunque potesse vedere quei video lo metteva a disagio. La famiglia di Matthew è addirittura convinta che Melissa lo abbia cercato su Tinder solo perché aveva bisogno di un partner per i suoi video. Secondo loro, cercava proprio un ragazzo di cui approfittarsi per costringerlo a diventare protagonista dei suoi contenuti. A questo punto, Matthew e Melissa stanno insieme da circa un paio d'anni e ora lui inizia a sentire il peso che comporta a portare avanti questa storia. Questo è uno dei motivi per cui la coppia inizia a litigare furiosamente. Passano sei mesi dal loro trasferimento, è il 17 ottobre 2019. La giornata inizia come al solito. Matthew e Melissa riordinano la casa, si prendono cura dei loro animali domestici e poi vanno a fare la spesa. Nel primo pomeriggio la coppia si rilassa ed entrambi iniziano a consumare un'enorme quantità di alcol, continuando fino a tardasera. Giocano a carte, bevono diversi shot e sembrano divertirsi. Verso le 23 Melissa dice a Matthew che è sta anche che vuole andare a letto, così lo lascia da solo nel salotto e sale al piano di sopra. Ma Melissa mente, non va a dormire o se lo fa non si addormenta oppure si sveglia per qualche motivo dato che verso le 5 del mattino scoppia una lite furibonda. La coppia inizia a gridarsi contro e a lanciarsi oggetti. Quattro ore dopo arriva una chiamata al 911. Sono le 8.45 quando Melissa chiama i servizi di emergenza. Sembra in preda al panico, dice all'operatore che si è svegliata quella mattina e si è resa conto che il suo ragazzo non era più a letto. Era quindi scesa al piano di sotto per cercarlo, poi era uscita nel giardino sul retro e l'aveva trovato sdraiato a terra, privo di sensi. Il suo corpo era freddo al tatto e si era quindi resa conto che ormai era senza vita e non aveva idea di come fosse successo. Melissa racconta di aver provato a eseguire una rianimazione cardiopolmonare, di aver fatto di tutto per salvargli la vita, ma senza successo. I servizi di emergenza si precipitano a casa della coppia e fanno tutto ciò che è in loro potere per salvare Matthew, ma anche loro si rendono conto che è troppo tardi. Secondo i paramedici, Matthew è stato brutalmente aggredito. Presenta numerose ferite da taglio su tutto il corpo e ha perso una significativa quantità di sangue. Non riescono a rilevare alcun battito cardiaco, così Matthew Trussler viene dichiarato morto all'età di 25 anni. La polizia arriva sulla scena del crimine e apre immediatamente un'indagine. Esaminando il corpo della vittima si scopre che ormai è deceduto da diverse ore. Il corpo è già in rigor mortis. Dopo aver osservato più attentamente le lesioni, notano una profonda ferita da taglio sulla schiena e diversi lividi e tagli più piccoli sulle braccia, che sembrano proprio delle ferite da difesa. La ferita fatale, quella che probabilmente ha causato la morte di Matthew, è una profonda ferita da taglio al braccio che ha perforato la vena cefalica. Gli agenti cercano di capire cosa sia successo e chiedono a Melissa di seguirli alla stazione di polizia per fare chiarezza. Melissa racconta che la giornata precedente avevano fatto le solite cose. La loro ormai era una routine consolidata. Sistemare la casa, prendersi cura degli animali domestici, fare la spesa. La sera poi avevano bevuto qualche drink. Melissa dice agli investigatori che a Matthew è sempre piaciuto bere. Verso le 23 aveva iniziato a sentirsi un po' stanca. Aveva quindi deciso di andare a letto. E qua Melissa inizia a mentire. Sostiene di aver dormito tutta la notte e che, quando si era svegliata la mattina seguente, aveva trovato Matthew senza vita nel giardino sul retro. La polizia però è scettica riguardo alla sua versione. Possibile che Melissa non abbia visto né sentito nulla? Lei continua a sostenere di non sapere proprio cosa sia successo, ripetendo che si era semplicemente svegliata e l'aveva trovato in quello stato. Melissa però non sa che la polizia ha notato una telecamera di sorveglianza durante la perquisizione della casa. Anche se questo tipo di telecamera registra solo video senza audio, permettendo agli ufficiali di vedere Matthew e Melissa senza sapere cosa si stiano dicendo, ha comunque catturato dei filmati significativi per le indagini. Intorno alle 4 del mattino si vede Melissa correre per la casa, mentre Matthew sembra calmo. Cammina semplicemente in giro per la stanza, mentre Melissa lo segue ovunque. È una situazione strana, la tensione è papabile e Melissa sembra visibilmente turbata. Probabilmente è arrabbiata e pare stia piangendo. Questo video però contraddice la versione dei fatti raccontata da Melissa, che chiaramente non è rimasta a letto a dormire per tutta la notte. Questa informazione viene fornita agli investigatori che stanno svolgendo l'interrogatorio, che le chiedono immediatamente delle spiegazioni in merito alla situazione mostrata sul filmato, dato che è chiaro che abbia mentito. Ma lei, anche davanti all'evidenza, risponde di non sapere cosa stesse succedendo. Gli investigatori la incalzano dicendo che pare stessero discutendo, ma Melissa continua a negare dicendo che non c'era stata alcuna lite quella notte. Probabilmente Melissa spera di riuscire a farla franca, contando sul fatto che la telecamera a circuito chiuso non aveva registrato l'audio e alla fine non mostrava nulla di così compromettente. Ma anche in questo caso Melissa ha calcolato male le sue mosse. La polizia, infatti, non è in possesso solo di quel filmato, perché dopo ulteriori indagini i detective ottengono l'accesso a una telecamera di sorveglianza esterna di un vicino di casa. Quella telecamera, a differenza di quella di Melissa, cattura sia il video che l'audio. Anche se non riprende immagini rilevanti, registra chiaramente la discussione accesa di quella notte. I detective ascoltano attentamente il filmato e sentono diversi rumori provenire dalla casa di Melissa e Matthew. Sentono le urla della donna seguite dal rumore degli oggetti che vengono distrutti in casa. Intorno alle 4.30 del mattino si sente Melissa dire Rimani, rimani! E poi il rumore di qualcosa di vetro che si rompe. Pochi istanti dopo si sente nuovamente la voce di Melissa dire Maledizione, ti odio! E poi Alzati, alzati, alzati! In inglese Get up! Molte volte. Seguono altri rumori di cose che si rompono e poi Melissa inizia a urlare Svegliati, svegliati, svegliati! Poco dopo urla di nuovo Ti odio! E poi a ripetizione Vai a farti f***e! Gli investigatori poi sentono frasi ancora più agghiaccianti come Muori e vai a muore c***o! Just f***e me, child! Just f***e me, child! Pochi istanti dopo lo smartwatch di Matthew smette di rilevare il suo battito cardiaco. Gli investigatori ipotizzano che questo sia il momento in cui Melissa ha ucciso Matthew pugnalando la morte. Pochi minuti dopo l'omicidio Melissa viene ripresa dalla telecamera di sorveglianza all'interno della casa Mentre cammina E potete vedere che la sua mano è sporca di sangue Ma anche questo video è strano a mio avviso Melissa si avvicina alla porta d'ingresso e sembra parlare con qualcuno Ma in realtà non c'è nessuno Sta parlando da sola Probabilmente sta cercando di capire cosa fare Poco dopo la si sente nell'audio della telecamera del vicino Melissa urla disperata Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? In inglese What did I do? A seguito di questa scoperta Alcuni ufficiali trasmettono questa nuova prova ai detective presenti nella sala interrogatori Gli investigatori affrontano immediatamente Melissa e le chiedono nuovamente delle spiegazioni Lei però continua a tentennare Così a questo punto gli investigatori le dicono chiaro e tondo che è evidente che stia mentendo Dato che hanno delle riprese audio in cui si sentono lei e Matthew che litigano verso le 4 del mattino Melissa a questo punto si trova costretta a cambiare la sua versione dei fatti Afferma che in effetti sì, si è svegliata alle 4 ora che ci pensa E ha iniziato a discutere con Matthew a causa del suo problema con l'alcol Racconta che lui era molto arrabbiato e continuava a barcollare e a cadere E ciò l'aveva infastidita molto Quindi si era dirata Melissa racconta che si era svegliata a causa del rumore e che aveva trovato Matthew che stava ancora bevendo alle 4 del mattino È per questo che avevano litigato Strega che non era una situazione inusuale Molto spesso Matthew rimaneva sveglio fino alle prime ore del mattino a bere Uno dei detective le chiede perché stesse urlando a Matthew di andare a morire Melissa fa spallucce e risponde semplicemente Perché ero arrabbiata Tuttavia gli investigatori notano un grosso taglio sulla mano della donna e le chiedono come se lo sia procurato A questo punto Melissa cambia di nuovo la sua storia Ora sostiene che quando Matthew era ubriaco spesso maneggiava dei coltelli Quella notte aveva provato ad aggredirla e lei si era tagliata tentando di sfilargli il coltello dalle mani Realizzando che la polizia ha molte prove contro di lei Melissa continua a raccontare la sua versione dei fatti Cercando di rovinare la reputazione di Matthew e tirando in ballo la legittima difesa Dice che la lite era degenerata perché Matthew l'aveva aggredita fisicamente Colpindola più volte e puntandola il coltello contro Racconta di aver reagito all'aggressione cercando appunto di strappargli il coltello di mano E ci era riuscita Ma poi Matthew aveva iniziato a strangolarla E lei a quel punto aveva iniziato a temere per la sua vita Pensava insomma che Matthew l'avrebbe uccisa Aveva ancora il coltello che gli aveva sfilato dalle mani E così lo aveva pugnalato una sola volta alla schiena Melissa dice che si è trattato di legittima difesa Non aveva intenzione di ucciderlo I detective però la guardano scettici e le dicono L'hai pugnalato solo una volta Melissa annuisce ma gli investigatori sanno benissimo che sta ancora mentendo Matthew presentava ferite da taglio multiple su tutto il corpo E molte ferite da difesa sulle braccia Le lesioni indicano chiaramente che fosse la vittima non l'aggressore Ma Melissa ha una spiegazione anche per questo Sostiene che Matthew si fosse procurato tutte quelle ferite da difesa sulle braccia Rotolandosi su una lastra di vetro frantumata Ma questa spiegazione non regge poiché le ferite non sono compatibili con questo scenario Anche la ferita sulla mano di Melissa che lei sostiene essere una ferita da autodifesa Sembra in realtà più in linea con il fatto che fosse lei l'aggressore E che avesse pugnalato Matthew con molta forza La prova che inchioda Melissa tuttavia è il lasso di tempo trascorso prima di chiamare i soccorsi Ben quattro ore Se fosse stato un caso di legittima difesa e non avesse voluto uccidere Matthew Perché non ha chiamato immediatamente il 911? Cosa stava cercando di nascondere? Se davvero non avesse voluto che Matthew morisse Avrebbe cercato di salvarlo Cosa che non ha fatto Melissa viene arrestata e accusata dell'omicidio di Matthew Ma invece di essere trattenuta in custodia in attesa di processo Viene rilasciata su cauzione In questo modo vive da donna libera per i successivi due anni Durante questo periodo partecipa a numerose interviste televisive Proclamando la sua innocenza e continua a portare avanti la sua attività online sotto un nuovo nome Olivia Vicks Pubblicando i suoi contenuti su diverse piattaforme Sui social media si vanta dei soldi che sta guadagnando con questa attività Il che infastidisce parecchio l'accusa Infatti affermano che Melissa Turner guadagna abbastanza soldi per pagare i suoi avvocati autonomamente Cosa che però non fa Alla fine le viene offerto un patteggiamento se si fosse dichiarata colpevole di omicidio Sarebbe stata condannata a 25 anni di prigione Ma Melissa rifiuta Nel febbraio del 2022 inizia il processo La difesa di Melissa porta avanti la versione secondo cui la donna ha ucciso Matthew per legittima difesa Permettono anche a Melissa di salire sul banco degli imputati dove mette in scena una vera e propria performance Si mette a piangere e dice che c'è tutta la sua vita in gioco E che ha già chiarito il motivo per cui Matthew è morto Cerca di suscitare pietà nella giuria e contemporaneamente dipinge Matthew come un uomo orribile Bugiardo, abbandonante e manipolatore Melissa sostiene anche che Matthew l'avesse aggredita intimamente più volte in passato Ma non ci sono proprio a sostegno di tali accuse E non solo, non esistono evidenze del fatto che Matthew sia mai stato violento nei confronti di nessuno Deve essere stato estremamente difficile per la sua famiglia sedersi in quell'aula di tribunale E guardare e ascoltare la donna che ha ucciso il loro figlio Mentre mente per cercare di screditarlo L'accusa contraddice le affermazioni di Melissa utilizzando principalmente i video delle telecamere di sorveglianza Questi filmati dimostrano chiaramente che quello di Matthew è un omicidio Il delitto probabilmente non è stato premeditato Melissa non ha progettato di uccidere Matthew Ma non ha dimostrato alcun rimorso dopo il tragico evento Le tante lacrime che ha versato erano solo per se stessa La giuria concorda con l'accusa Melissa Turner viene dichiarata colpevole di omicidio di secondo grado E viene condannata a 20 anni di prigione Ma trovo questa sentenza alquanto assurda Se Melissa avesse accettato il patteggiamento che le era stato offerto Sarebbe stata condannata a 25 anni di prigione Quindi perché è stata dichiarata colpevole in un'aula di tribunale Ma la sua sentenza è inferiore al patteggiamento? In ogni caso Melissa è ancora in carcere Ma continua a proclamare la sua innocenza Attraverso varie apparizioni televisive Stando alla sua condanna verrà rilasciata nel 2040 All'età di 47 anni Parliamo ora del movente Melissa, ovviamente, non ho mai spiegato perché quella notte abbia ucciso Matthew Questo caso rimarrà probabilmente un mistero Perché Melissa e Matthew sono le uniche persone a conoscere la verità Una non è più in vita, ovvero Matthew E l'altra si proclama innocente e afferma di aver ucciso per legittima difesa Personalmente ritengo che il comportamento di Melissa suggerisca che sia una persona molto controllante Il suo business online e i soldi guadagnati erano la sua priorità nella vita E non avrebbe mai permesso a nessuno di ostacolarla Era molto autoritaria anche nei confronti di Cameron, il suo precedente fidanzato Lui però aveva deciso di lasciarla proprio a causa di questo comportamento Non è così inverosimile Pensare che Melissa abbia trattato Matthew allo stesso modo Con una situazione che poi è peggiorata sempre di più col tempo I familiari di Matthew hanno raccontato di essere convinti che il loro figlio stesse cercando di porre fine alla relazione O quantomeno di smettere di partecipare ai contenuti per adulti E che Melissa non ha accettato questa sua presa di posizione Per questo motivo la loro relazione era in crisi Hanno iniziato ad avere discussioni sempre più accese E tutto ciò ha portato poi al tragico epilogo Melissa sapeva già cosa volesse dire perdere la popolarità E i guadagni derivati dai contenuti di coppia E quando ha capito che avrebbe potuto perdere tutto di nuovo Non è riuscita a sopportarlo Ovviamente voglio sapere anche le vostre opinioni su questo caso Concordate con me? Pensate che Melissa fosse così ossessionata dal suo lavoro e dai soldi da arrivare a uccidere? Scrivetemi tutte le vostre idee qui sotto nei commenti Perché io li leggo sempre tutti con tanto interesse Io vi ringrazio per commentare sempre così numerosi Siete sempre un sacco carini e vi riconosco nei commenti Oramai ho memorizzato i vostri nickname Quindi davvero grazie mille Io vi mando un bacione Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video Mi raccomando fate i bravi Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene Ma soprattutto prendetevi cura di voi E fate ciò che vi rende felici Basta che non facciate nulla di criminale Ciao a tutti Ciao a tutti